Allora a tutte le famiglie in sala, a tutti voi, onpeggiate con le mani alzate dal cielo e proviamo a cantarle insieme perché oggi lo facete in Natale e lo dobbiamo regalare a questi bambini che meritano tutto perché loro stanno pagando delle porte che non sono, però che appartengono. E allora per tutti voi, Buon Natale 2021, Vita e Moales, la festa della famiglia. Andiamo anche a sentire la voce, eh? Anche in Calabrese si può cantare qualche volta, attenzione, anche in Pugliese. Oggi è un giorno dedicato all'amore, dedicato alla famiglia e il vostro Natale siamo onorati di avervi qua e vi vogliamo così, uniti, dopo tanto tempo, tanta distanza, questo è un giorno che vi dovete regalare. Che le vostre chi, che le vostre famiglie si devono ricordare. Tutti insieme, che la mia mano, a tutti! Tutti! Buongiorno a tutti